Approfittando del bel tempo e del mare calm sono continuati gli sbarchi sulle coste siciliane, in particolare sull'isola di Lampedusa, una lunga notte di lavoro per le forze dell'ordine a Lampedusa dove si sono susseguiti 12 soccorsi di barche e barchini. Sono sbarcati 691 migranti tra iboriani, malesi, ganesi, nigeriani, sudanesi, siriani, marocchini, bengalesi ed egiziani. Ieri gli approdi erano stati 15 con oltre 600 persone complessivamente. A mobilitarsi per portare in salvo i migranti in viaggio, tanto in area sarra quanto nelle acque antistanti alle isole Pelage, sono state le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, a bordo dei 12 inattanti da un minimo di 38 persone fino a un massimo di 134. I porti di partenza, secondo le dichiarazioni dei uomini sbarcati, sono risultati essere quelli di Zouwarak in Libia e Sfax in Tunisia. Grazie! 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 Grazie!